Sette moduli blu interconnessi tra loro che ospitano laboratori, uffici, camere da letto, impianti per la produzione di energia, resistenti a temperature fino a meno 60 gradi. Entra in funzione Halley 6 la stazione di ricerca antartica britannica. Costruita sulla piattaforma ghiacciata di Brandt, la nuova struttura si trova a 16.000 chilometri dal Regno Unito, di cui punta a diventare icona della scienza, dell'architettura e dell'ingegneria. Un secolo dopo le spedizioni del capitano Robert Falcon, rimpiazza la Halley 5, che sarà demolita, per continuare lo studio dell'atmosfera e proseguire il cammino delle precedenti stazioni di ricerca antartica, quelle che nel 1985 hanno portato gli scienziati a scoprire il buco dell'ozono.